Salve a tutti ragazzi, io sono Umarucco e benvenuti in un nuovo episodio di Harry Potter e la pietra filosofale Nello scorso abbiamo raggiunto i sotterranei e abbiamo anche frequentato le lezioni di pozioni e difesa contro le arti oscure Stiamo però andando un po' in giro a scoprire i sotterranei Perché dobbiamo prendere tutte le gelatine e tutti i gusti più uno verdi per poi recuperare una nuova figurina Siamo messi bene anche con le figurine ragazzi perché ne abbiamo ben 12 su 17, ce ne mancano 5 Per quanto riguarda invece le gelatine siamo a 49 su 80, ce ne mancano ancora un bel po' Ma continuiamo la nostra avventura, quindi direi che possiamo continuare caro Harry, andiamo Vediamo un attimo qua cosa c'è, una porta aperta e per forza, se non c'è il lucchetto si va, si va Volano i pipistrelli, qua si può salvare, qua si può fare anche una pozione, grazie, desistere Mesco la pozione, via 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Perfetto, grazie Raccogli la pozione, dimmi che è quello che penso Sì, ma bravo il mio gioco Beviamo la pozione, ci refugliamo la vita Finalmente perché siamo un po' alle strette dallo scorso episodio e non vedo l'ora di andare avanti Grazie, vedo anche delle gelatine verdi, il che mi piace, mi piace assai, ma vedo tanti ranni Per fortuna Ron non è nelle vicinanze e quindi possiamo andare avanti perché non c'è nessuno che vomiterà Molto bene Ciao Pix Certo, sono io Con che voce sexy me lo dici? Va bene Niente, ma almeno io sono vivo Sì E la tua mamma, non dico cosa farà Ok Va bene Le risaie Ok, allora Uh, quante cose belle Via, bravo Harry, arrampicati che manco all'Ikea sulle librerie Questa è una libreria normale Quindi non ci interessa Non è un passaggio segreto Molto bene Questa però credo di doverla utilizzare per fare così Esatto Qua ci sono i parkour con i calderoni Quanto vi odio Quanto vi odio Eh, beh Prima o poi si va Si dovrà fare Via Fuori uno Fuori due Va bene Fuori tre Grazie Ne vedo altri Ne vedo altri Maledetti Ma cosa? Pix Eh, grazie Ok Vado a fare così Vado a fare così Io sospetto che poi dovrò tornare indietro Ne sappiatelo Oh, i tavolini Sul vuoto Va bene Stiamo calmi Calmi tutti Fuori uno Fuori due Fuori tre E le armaturine quelle belle anche Ma seri? Eh, perché sospetto di aver fatto una bogliata? Non che non ne fossi consapevole Ma Credo Che dovrò fare il giro largo Perché se salto da là mi sfracasso Quindi preferisco tornare indietro Credo fosse un passaggio solo per prendere le ultime gelatine Questo Calderoni Va bene Beh, almeno ho fatto tutto, eh Possiamo andare tranquilli passando dall'altra parte Fuori un calderone Bravo Fuori due calderoni Fuori tre calderoni Ok E andiamo a questo punto qua dentro Per capire se arriviamo alla porta Sicuramente arriviamo nella stanza Dove c'era l'armatura Guardate un po' come ve lo dico Questa è una libreria normale Non c'è un passaggio segreto Né altro No Tutta pietra Mi dicono Hogwarts Vediamo un po' Eh, ma qua aspettate Eh beh, ormai Mi ci sto abituando Va bene Non capisco dove sto andando È un vero e proprio labirinto Uh, le lucine quelle belle Ah, vedo altre robe Ma qua non mi posso sfracassare Ciao Ah Eh, proviamoci Ringardium qualcosa Ma maledetto Eh Lo faccio da lontano allora Eh, ok Ora ricordo Devo eliminare tutti gli occhi Perfetto Ne abbiamo appena eliminato uno Qua invece Ci eliminiamo noi da soli Se proviamo a saltare Perché credo non sia la strada giusta Magari mi sbaglio ragazzi Eh Però credo proprio Di dover tornare indietro E fare tutto in maniera procedurale Probabilmente Sì Caro Harry Va bene Qua dobbiamo fare così I saltelli quelli belli Sì Saltiamo da questa parte Magari troviamo un altro occhiello No Però questo è sospetto Perché è una cripta senza nulla Così Un punto di Così dove stare tranquilli Va bene Eh Noi siamo arrivati da qua Ah Credo fosse l'unico modo Per arrivare da questa parte Guardate un po' come ve lo dico eh Saltiamo qua Sulla rana Grazie Ci rifugliamo Gelatina Siamo a 59 Aspettate che devo capire Se qua c'era un modo per saltare Sì Dalla libreria E allora Beh no A questo punto Abbiamo già fatto tutto Andiamo dritto per dritto Dobbiamo trovare Tutti e quattro gli occhi E in effetti C'era Nick Se avete visto Con gli occhietti Quelli belli Che ci aspettava Probabilmente Ora stiamo sbloccando Prima di parlare con lo stesso Nick Quello che dobbiamo fare Stavolta però Io mi ci butto Perché altrimenti Non capisco più niente Ho paura di aver fatto Una boiata ragazzi Guardate come ve lo dico Qua si salva Questo si muove Flipendo Ok A che pro Metterlo qua Non serve a nulla No Flipendo Flipendo Ok Beh intanto mi prendo i punti Che sempre servono E a questo punto Devo andare dall'altra parte Mi ci sto perdendo Nei sotterrani Ciao Ah ma sono tartarughe Wingardium Smettete di sputtare fuoco Si scivola Ok Bello Mi piace Questa roba Ma non devo toccare Credo le pozze verdi Guardate come ve lo dico Secondo me Quelle fanno un danno Voglia Due ranocchie così Ah me le mettete già In maniera preventiva Della serie Tanto schiatti Grazie gioco Grazie di esistere E adesso prendo danno E non ho più le rane Ok R R Piano Piano Dove aspettare Ok C'è un tempismo Eh vabbè Ormai Eh certo Qua c'è qualcosa No Però speriamo Ci sia un'altra rana Altra porta Ancora con le tartarughe Beh ma qua non mi fanno niente Credo Ok Qua c'è una pozza Ah no ma non mi fanno niente Quelle più scure E scherzavo Ah Secondo occhiello Wingardium Qualcosa di potente Perfetto Secondo occhio Distrutto quello giallo Ok Ora però Mi resta da capire Dove devo andare Per dire no Tartarughe Tartarughe Smettetela Grazie Ok Qua non c'è nulla Torno indietro Sono un po' perplesso ragazzi Da questi sotterranei Perché non capisco bene Dove devo andare Ma tipo Corri Grazie Grazie Bravo Harry Bravo 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 Qua mi hanno rimesso le rane Tipo di default Eh no Ve l'ho detto Che non serviva a prenderle Subito Fermo Grazie Via Non so come ho fatto Andiamo Harry Si torna indietro Allora Perché qua ho preso tutto Sì Ho preso in realtà Le gelatine Non mi serviva a fare altro Aspettate però C'è qualche quadra Che non cosa Eh Qua devo tornare indietro Va bene Libreria Libreria Qua dietro Se mi hanno messo qualcosa No Perfetto Si torna allora Quassù Qua c'era La libreria normale Niente Abbiamo fatto anche questo Torniamo indietro Non ci sto capendo Una mazza Di Hogwarts In questo momento Perché sono un po' strani Però quello l'ho fatto Non sono sceso Quaggiù Se ci pensate E invece sì È da qua che sono arrivato Ok E torno indietro Devo trovare gli altri due occhi Sì Qua ci si può rifullare No Solo una volta Ah Va bene Torno indietro Questa è la scala Sì Per fortuna Non mi ammazzo Qua c'è Pix Che mi dirà Di uccidere i quattro occhi Ma come vedete Due li abbiamo già fatto Esatto E Pix Ok Vero Vero Quattro maledizioni Eh Ok Eh lo so E fin qua Ce l'ho arrivato Siamo a quota Due di quattro Però È quella la via Credo Eh sì Lì non si può più andare No ragazzi Dobbiamo per forza Entrare qua Dobbiamo entrare qua Ragazzi E capire Capire Ok Qua dobbiamo solo andare avanti Va bene Qua c'è qualche altra via Che non ho visto Aspettate Perché a questo punto Mi aspetto di dovermi buttare Nei posti in cui Erano alti E ho detto No Lo facciamo da qualche altra parte E a questo punto Sì Quindi devo tornare Da queste parti Per forza Fuori uno Fuori due Quanto mi piace il parkour Fuori tre Fuori quattro E a questo punto Devo andare qua in fondo Eh sì Vai Henry Ok Mi ci devo buttare E devo prendere del danno Mi sembra un po' stupida Come cosa Ma va fatta così Qua però Non c'è neanche danno da prendere Perché siamo praticamente Distrutti Ah ecco qua Esatto Questa è una nuova zona Ah ok Non vorrei aver filato Qualche gelatina No Perfetto Wingardium Qualcosa Qua ne vuole due Via Aia Ma scusami eh Eh ciao Esatto Punti Bravi Così Bravi Bravi Ok Dovevo solo arrivare Da questa parte Bene Bene Siamo a quota 63 64 Eh ragazzi Stiamo anche andando avanti Con le gelatine Siamo messi davvero molto bene Vediamo un po' se me ne hanno nascosta Qualcuno da questa parte Pare di no Beh dai Potremmo anche trovare La parola d'ordine In questo episodio Non Lo metto in dubbio Non credo sia così difficile Poi in realtà Saliamo qua Andiamo da questa porta E quindi qua dovremo trovare La terza maledizione O quella blu O quella rossa Me l'aspetto Ciao Wingardium Ciaoone Non è così È troppo Wingardium Perché lo vuole caricato Ma cosa Mi scusi eh Ma che fa Sta fermo Via Ok Eh non capivo perché stava fermo Sarà frizzato ragazzi Ok Qua abbiamo una porta da aprire Qua abbiamo Una confezione 71 ragazzi Eh Oh Siamo a quota 76 Ce ne mancano solo 4 GG E qua c'è un'altra porta Quindi Andiamo avanti Mmm 4 gelatine 4 gelatine Tutti i gusti Più 1 Una Due E dammele E dammele gli altri Due Uh La maledizione rossa Flipendo 3 di 4 Bene Ok Ci mancano 2 gelatine Verdi E ho davvero il terrore di averle filate da qualche parte Speriamo di no Ho guardato in tutti gli angoli Ok Dobbiamo tornare indietro Perché questo nuovo arco In teoria ci dovrebbe anche aprire A varie possibilità Esatto Quindi Ci bluttiamo E Dobbiamo andare Quaggiù Quaggiù Non ci siamo ancora andati Dai Cicciatemi fuori le ultime due gelatine Forza Eh Però non va bene Qua non ce ne sono Il tavolo Il tavolo 2 Ok Ah Ti permette di Ciao Flipendo Flipendo caricato Perfetto I punti Verrà così Uh Questo luogo è azzurro Possibile che ci sia l'ultima maledizione Qua non vedo gelatine Andiamo Ho visto però una scatola di gelatine Quindi dovremmo aver comunque completato il tutto Tre rane Seri Ok Ultimo occhialo Perfetto Flipendo caricato Ragazzi Abbiamo abbattuto le maledizioni Dei sotterrani Finalmente Se anche Ok Bravi Andate via Bravi bravi Ok Perfetto Possiamo andare avanti A questo punto però Devo raggiungere quella scatolina Di gelatine Tutti i gusti più uno Perché cascasse il mondo Dobbiamo completare La sfida Che non ricordo dove stavano Aspettate Qua non dovrei morire No E qua giù Eh ma io qua giù Ci devono arrivare E poi però Come torno indietro Eh Vi ingardiamo qualcosa Ma sento una Aia Ok Ripendo caricato Ma c'è la rana Ma so via Ripendo caricato Dove sta L'armatura Ah La devo far Muovere Brava Ripendo caricato Punti per me Grazie E gelatine E abbiamo così risolto Anche le gelatine Verdi ragazzi GG per noi Questo invece È un passaggio segreto Non è vero mai nella vita Ok scherzavo E allora a questo punto Possiamo tornarci indietro Dal nostro nick E abbiamo anche completato Tutto quello che riguardava Le gelatine verdi Ok Questo è solo La strada per tornare indietro E ci sta Ci sta E coerente Da qua io però Posso? No Come si torna indietro? Vuoi vedere che c'è la scala qua di fianco? Esatto E manca dirlo Va bene Ok Possiamo tornare da nick Credo che a questo punto Dovrò aspettare che il tavolo Leviti Esatto E fare le magie Quelle belle Per tornarmene indietro Passando da questi tavoli No Così Grazie Ok Bene bene Siamo tornati indietro La stanza di nick Per dire dove stava E' un parolone Io non ricordo più Dove devo andare Per tornarmene indietro Non è questa Se non ricordo male Era quella la via Sì Quindi dovrei Appendermi qua E' una parola E poi tornare indietro Da quella parte Se non ricordo male Quindi se io vado a fare così Dovrei anche riuscirci Bravo E riappenditi Bravo Così arrampicati Come solo tu sai fare E a questo punto Sì ragazzi Possiamo tornare indietro Ed eccomi qui nick Abbiamo trovato La strada E' certo Eh c'è da capire Perché Perché Va bene Uh Devo andare Alla lezione Di trasfigurazione Eh lo so Ok Dalla torre di Grifondoro Grazie mille Grazie mille Apriamo la porta Devo però parlare Con Fred e Giorgio Prima di tutto Quindi c'è il caricamento Andiamo a prendere il quadro Poi dobbiamo Raggiungere il terzo piano Come Hermione ci ha detto Però prima dobbiamo passare Dall'aula Di trasfigura Ciao Vai le prendo Se anche non mi servono più Esatto Infatti non me ne conta neanche più Anche qua L'avessi saputo Non avrei fatto Tanto sbattimento Ma non importa E qua Va bene Al castello La porta sopra E qua invece Alla sala del ritratto Eh non ancora Perché prima devo Prendere la parola d'ordine Alla sala del ritratto Fermi No aspettate ragazzi Alla sala del ritratto Era lì che c'era Fred C'erano Fred e Giorgio Ho sbagliato Ho sbagliato Devo tornare indietro Sì lo so Sono tornato al castello Va bene Grazie Ma prima Devo andare Da Fred e Giorgio Quindi ci sarà il caricamento Eccoci qua Apriamo la porta Fred e Giorgio Ci siete ancora? Spero di sì Eccoli qua ragazzi Possiamo vedere Anche la nuova figurina Streghe e maghi famosi Sì Mistificazione Ciao Fred Ciao Giorgio Grazie Andiamo dal ritratto Mistificazione Sì lo so Sarai al sicuro Ah grazie Così me lo dici Va bene Ci sarà Credo un caricamento Ok E che cos'è? Uh ma ciao I guanti da portiere O da cercatore In realtà Protezione contro i boli Indispensabili Per partite di Quidditch Ok Buono Buono Pensavo di trovare In realtà Una figurina Ma in effetti Ne mancano 5 Quindi ci sta Che ci abbia dato Qualche nuovo item Va bene E a questo punto però Non possiamo fare altro Se non andarcene via Ragazzi Dobbiamo raggiungere L'aula Della nostra Meggranit Magari in questo episodio Facciamo La lezione di trasfigurazione E probabilmente Nel prossimo Andiamo al terzo piano A incontrare E conoscere Il buon Puppi Che fidatevi Una personcina Se anche non lo è A modo Un cagnolino a modo Mettiamola così Che fanno Che fanno Che fanno Grazie a tutti